Buongiorno a tutti vichinghi e vichinghe, sono Mitch, bentornati nella mia road tuvalalla. Torniamo su Instagram a Mitch-Bassoferniani, dove in direct Gabriele Luraghi ci chiede Ciao Mitch, complimenti per i contenuti, ciao Gabriele, ti ringrazio un sacco. Mi piacerebbe porti una domanda, eccoci qua. Quanto è importante la variazione degli esercizi in campo ipertrofia? Leggo spesso teorie discordanti, un tempo si cambiava praticamente scheda ogni settimana, poi ha preso piede dell'influenza della scuola italiana di powerlifting e si è passati a fare quasi sempre pochi esercizi multiarticolari. Ora, vedo che i big del fitness stanno ricominciando a parlare di variare spesso lo stimolo con più esercizi. Tu di che pensiero sei? La mia paura è più che altro che variando spesso esercizi si perda di vista la progressione. Grazie mille, a presto. Grazie a te Gabriele. Allora, abbiamo avanzato effettivamente delle argomentazioni abbastanza importanti. Leggo spesso teorie discordanti, questo sì, siamo d'accordo. Un tempo si cambiava praticamente scheda ogni settimana, ok, esagero per far capire il concetto. È relativamente vero. Poi ha preso piede dell'influenza della scuola italiana di powerlifting. Anche qui è abbastanza contestabile come opinione, come argomentazione. La scuola italiana di powerlifting dice, tra virgolette dice, utilizza spesso i multiarticolari perché sono gli esercizi che devi portare in gara. E quindi la selezione dell'esercizio è basata proprio su quello che è il movimento da gara, il potenziamento di quest'ultimo. Quindi dobbiamo imparare prima di tutto a distinguere quelle che sono le metodologie, le ideologie che ci devono essere per forza di cose in una scheda di powerlifting, in una metodologia di allenamento per il puro powerlifting, che ricordiamo è andare su una pedana a fare squat, punk e stacco. E tutta la scheda deve essere, deve evolvere per questo principio, per questo obiettivo. Quindi l'influenza della scuola italiana di powerlifting, se parli del bodybuilding o del powerbuilding, chi si è fatto influenzare da questa scuola di powerlifting semplicemente ha fatto una minchiata. Perché? Perché se l'obiettivo non è quello di andare in gara, non ha senso sbattere la testa continuamente con le solite alzate. E quindi qua già togliamo un'argomentazione abbastanza importante da tenere in considerazione. I big del fitness, ora mi dici che stanno ricominciando a parlare di variare spesso gli stimoli con più esercizi. Chi sono questi big del fitness? Perché effettivamente non so sinceramente di cosa stai parlando, però ti posso dire quello che è il mio pensiero in merito. Allora, questo variare molto spesso lo stimolo con più esercizi è piuttosto generico, perché effettivamente non ci dà delle linee guida di riferimento, dei range di tempo appunto. Cosa vuol dire molto frequentemente? Cosa intendi tu per molto frequentemente? Abbiamo fatto un riferimento al powerlifting. Nel powerlifting tipicamente attraverso i vari blocchi, i vari mesocicli, si va come in una piramide, come un imbuto, si va sempre più stretti e si va sempre a finire verso la specificità del gesto. Quindi, magari nella fase di accumulo più lontana dalla competizione, si possono inserire molte più varianti, mentre mano a mano che ci si avvicina al picco prestazionale e ci si avvicina quindi alla gara, è necessario a tutti gli effetti, come si può immaginare, che le alzate principali da portare in gara siano la parte più fondamentale, possiamo dire, della programmazione. Questo è, in breve, la selezione degli esercizi per il powerlifting. Quindi, lì c'è poco da variare. Quello devi fare è non rompere i coglioni, essenzialmente. Per tutto il resto, si apre un mondo. Perché? Uno, non devo portare niente in gara. Naturalmente non sto parlando di weightlifting. Bene o male, powerlifting e weightlifting esistono nello stesso modo. Hanno la stessa ideologia per quanto riguarda la selezione degli esercizi. Tutti gli esercizi sono atti, sono pensati per potenziare il determinato gesto. Per quanto riguarda un obiettivo diverso, quindi l'obiettivo fa da padrone, come possiamo capire, se l'obiettivo è diverso, ci si apre tutto il mondo degli esercizi e dobbiamo selezionarli in base a quelle che sono le nostre preferenze, barra esigenze, barra necessità, barra caratteristiche, se vogliamo. Quindi, ora che abbiamo un parco esercizi molto più grande, dobbiamo capire, andando a, nello specifico, a rispondere alla tua domanda, possiamo capire bene che, avendo un parco esercizi così grande, è facile cadere nel problema che hai citato tu. Quindi variare troppo spesso e quindi non specializzarsi in niente e mandare tutto a cagare perché effettivamente, come dici anche tu, è impossibile effettuare una progressione se abbiamo, se cambiamo esercizio ogni giorno. In merito a questo voglio proporvi due studi. Il primo è del 2017 e riguarda più la panca piana e la forza in quest'ultima. Il 2017 è di Seterbakken et al The Effects of Bench Press Variation in Competitive Athletes on Muscle Activation and Performance. Quindi l'effetto delle varianti di panca piana in atleti competitivi, atleti d'élite possiamo dire, nella attivazione muscolare e nella performance. E si evince da questo studio che effettivamente anche in atleti spancatori d'élite, quindi persone che lo fanno per sport, per portare effettivamente in gara il movimento, l'attivazione muscolare è abbastanza simile tra le variazioni della panca piana. Quindi stiamo parlando di panca inclinata, panca declinata, presa larga, presa media, presa stretta, eccetera, eccetera. Nonostante la differenza del rom e del carico utilizzato. Quindi l'attivazione muscolare è simile in tutte le varianti, naturalmente con alcune specificità del caso. Le uniche differenze significative osservate sono state nell'attivazione del tricipite, nella panca inclinata rispetto alla panca declinata, eccetera, eccetera, e l'attivazione del deltore anteriore. Da questo studio si vince che effettivamente, ve lo lascio in descrizione naturalmente se volete approfondire, non vado mai molto nel dettaglio di questi studi, Se sei uno spancatore altamente qualificato, d'élite, probabilmente tutte le varianti studiate ti forniranno probabilmente uno stimolo efficace, con un forte riporto e un forte guadagno anche nella configurazione del tuo setup da competizione in panca piana. Questo si vince in un atleta d'élite che ha già una base tecnica molto solida e che magari ha bisogno di stimolare il movimento da altri punti di vista per potenziarlo. Quindi qui variare è un'ottima metodologia per potenziare il movimento principale. Stiamo parlando addirittura di powerlifting, di specificità nuda e cruda. Anche qui la variazione può portare a benefici, ma quanto deve essere vario nel tempo? Quante variazioni devo fare nel tempo? Tipicamente, al massimo, io tendo a variare una volta per mesociclo il movimento. Quindi se so che... teniamo in considerazione la panca piana. Se so che a fine macro ciclo, 3-4 settimane, 3-4 mesi, blocchi, devo andare a testare un 1RM di panca piana, molto probabilmente nei primi mesocicli andrò ad utilizzare delle varianti di panca piana più simili possibile al gesto, ma che vadano a stimolare il movimento magari in una porzione che ho determinato carente in un test precedente. Mano a mano che mi avvicinavo alla competizione, secondo questo studio posso ottenere effettivamente ancora varianti. Ma effettivamente la logica ci porta a considerare che dovendo portare quel movimento in gara è giusto specializzarsi in quest'ultimo. Per quanto riguarda invece l'ipertrofia muscolare, ti propongo uno studio del 2020 di quest'anno di Brandao e colleghi variare l'ordine e la combinazione degli esercizi singolo e multiarticolari come differenzia gli adattamenti all'allenamento. Per 10 settimane 4 gruppi di uomini deallenati hanno allenato il primo gruppo la panca da sola, il secondo gruppo le estensioni dei tricipiti da sole, il terzo gruppo la panca seguita da estensioni dei tricipite, il quarto gruppo estensioni del tricipite seguita dalla panca. I soggetti nei gruppi che seguivano sia l'estensione della panca che quella del tricipite hanno fatto lo stesso numero di serie di ciascuno esercizi dei gruppi che eseguivano un solo esercizio, il che significa che stavano eseguendo il doppio di tutte le serie complessive, quindi questo è un punto effettivamente da tenere in considerazione. Da questo studio si evince effettivamente che se vuoi massimizzare la crescita dei muscoli tricipite pettorali in questo caso, è probabilmente saggio includere sia esercizi multi che monoarticolari nel programma di allenamento che vadano ad utilizzare patermotori in cui il determinato muscolo viene stimolato sia d'origine che di inserzione. Mi viene come ad esempio per esempio il tricipite in questo momento, facciamo tanti lavori in cui l'omero è diciamo vicino al busto, perché così ci capiamo tutti, e le classiche distensioni magari alla corda, ma in pochi vanno ad effettuare lavori di estensione del braccio con l'omero perpendicolare al pavimento, tra virgolette, in massima flessione, quindi alto sopra la testa per chi sta seguendo il podcast e non mi vede. Utilizzare tutte e due questi range di movimento, quindi abbraccio disteso, esteso, e abbraccio completamente flesso, si va a stimolare il muscolo in diversi... in una maniera diversa, si va a stimolare teste diverse, ventri diversi del muscolo, in entità diverse, e quindi sicuramente si va a stimolare meglio il muscolo. Quindi questo per quanto riguarda la selezione e la varietà degli esercizi, che a mio modo di vedere le cose possono essere variati di mesociclo in mesociclo al massimo, non andare oltre, perché effettivamente questo porterebbe, come dici tu, a problemi, semplicemente sulla gestione della progressione, e quindi ad uno stallo. Ci stiamo dando la zappa sui piedi, perché effettivamente cambiare continuamente non ci porta a migliorare niente, non ci porta a specializzarsi in niente, e quindi non specializzarci non ci porta effettivamente al tanto amatto e leggendario e mitologico sovraccarico progressivo che stiamo ricercando, a meno che queste variazioni non riguardino un aumento della difficoltà dell'esercizio in questione. Per esempio, in panca piana possiamo fare il primo mesociclo con una spotto press a carico X, mentre nel secondo mesociclo variamo l'esercizio e facciamo la panca piana sempre a carico X, ma con ROM completo. Questo è un esempio molto generalizzato. Però per farvi capire che è un argomento molto molto vasto, e se si inizia a ragionarci sopra, a ragionarci si sopra, si esce di testa, ed esce un video di mezz'ora effettivamente come sta succedendo in questo momento. Quindi viching e viching e io non ho risposto anche oggi precisamente alla domanda, ma vi ho fatto un escursus generale di quello che è l'argomento. E spero effettivamente di aver dato dei punti, delle chiavi di lettura, per appunto comprendere meglio questo argomento e per ragionarci su. Non voglio darvi soluzioni, non mi considero un guru, e guru è quello a cui ci si affida senza effettivamente mettere in discussione quello che sta dicendo. Mentre io a tutti gli effetti vi propongo informazioni e poi siete voi che potete elaborarvele tranquillamente e dedurre da voi quella che è la soluzione del caso. Io, come sempre, vi invito a mi piacere il video se vi è piaciuto, convidete il video come se non ci fossero mani, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche se non l'avete ancora attivata. Vi ricordo di seguirmi amici Trattino Basso Ferniani dove potete lasciarmi le vostre domande in direct. Io sarò lieto di leggerle tutte perché le leggo tutte, vi metto anche il cuoricino. Quelle più importanti, quelle che ritengo più generalizzabili e trattabili con video come questo le scremerò, le screenshoterò e le porterò appunto nel canale. Quindi Viking e Viking questo video non lo guarderà nessuno perché è uscito lunghissimo. Io vi ringrazio comunque se siete rimasti fino a qui vi ringrazio per la visione e vi saluto. Ciao, grazie.